Green Pass, Papa Francesco, Gesù, sì sì sì, Green Pass, Papa Francesco, Papa Bergoglio, Gesù, su Facebook circola un simpatico post, scritto in stampatello, dove simpatici amici scrivono Vorrei ricordare a Papa Bergoglio, non lo chiamano Papa Francesco, ma Papa Bergoglio, allora, vorrei ricordare a Papa Bergoglio, che pretende il Green Pass per partecipare alla sua messa, che Gesù stava in mezzo ai librosi, tutti felici e contenti, i Novax, capito? Perché c'è un prodigioso, un prodigioso Novax che ha scritto, vorrei ricordare a Papa Bergoglio, che pretende il Green Pass per partecipare alla sua messa, che Gesù stava in mezzo ai librosi E io sono costretto sempre a intervenire su questi post che appaiono sul pregiato website Facebook, uh, quanti, quanti, tanti, tanti post, uno celebre post, non ti vendicare, se qualcuno ti fa del male, tu non ti vendicare Stai fermo, ci pensa il karma, ci pensa il karma a vendicarti, ma tanti altri, tanti altri, beh, allora vediamo un po' la situazione Papa Bergoglio ha chiesto il Green Pass, ha chiesto il Green Pass, e allora ovviamente i cattolici, i cristiani cattolici, i Novax, sono incazzati Perché Papa Francesco ha detto pure, vaccinatevi, che è un atto d'amore, sono tutti incazzati, tutti, tutti incazzati Infatti non lo chiamano Papa Francesco, lo chiamano Papa Bergoglio, tutti incazzati perché l'Italia è un paese cristiano cattolico, capito? E i Novax, adesso non sanno più che fare perché Papa Francesco ha detto, vaccinatevi, perché il vaccinarsi è un atto d'amore Ha detto così, vabbè, questo l'ha detto pure Mario Draghi, Mario Draghi ha detto, se non vi vaccinate morite Poi ci sono fatti vaccinare persino i due potentissimi leader popolari, Matteo Salvini e Giorgia Meloni Che erano la grande speranza della gioventù Novax Allora, sentite, ma che cosa andate a scrivere queste cose? Cioè che, tu Papa Bergoglio vuoi il Green Pass perché non vuoi essere infettato dal virus? Quando dovresti saperlo che Gesù andava in mezzo alle brosi? Ma vi siete dimenticati che Gesù era un Dio? Un Dio se ne frega della lepra Papa Bergoglio è un uomo Rappresenta Dio in terra, ma è sempre un uomo Capito? Cari amici, capito cari amici Certo che andava in mezzo alle brosi Gesù era un Dio Un Dio è superiore alla lebra, è superiore a tutto Ma Papa Bergoglio non è un Dio, Papa Bergoglio è un uomo È un rappresentante Di Dio in terra, ma è sempre un uomo Non è un Dio Papa Bergoglio, Papa Francesco E poi chiamatelo Papa Francesco perché lo dovete chiamare Papa Bergoglio E lo so che non siete contenti Non siete contenti Non siete che Anche Papa Francesco Abbia chiesto il Green Pass Ma sentite Carissimi Carissimi amici Novak Dico ma non ve l'ha detto nessuno Che anche i potentissimi leader popolari Matteo Salvini E Giorgia Meloni Si sono fatti vaccinare Ma vaccinatevi pure voi come hanno fatto Matteo Salvini e Giorgia Meloni E alcuni Novak sono giunti alla disperazione di dirmi Ma tu sei la Fino Mazzoni come fai a sapere che Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono fatti vaccinare davvero? Beh ne hanno parlato tutti i mass media, i giornali e le televisioni E se voi non ci credete che Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono fatti vaccinare Ma scrivete direttamente a Giorgia Meloni e Matteo Salvini Dite Giorgia Meloni e Matteo Salvini Serafino Mazzoni va dicendo il falso Perché dice Serafino Mazzoni dice che voi Matteo Salvini e Giorgia Meloni vi siete fatti vaccinare Giorgia Meloni e Matteo Salvini Denunciate Serafino Mazzoni che va dicendo il falso Va dicendo Ah ragazzi Mandate subito a vaccinarvi Perché io non voglio che voi signate in terapia intensiva Non voglio neanche che voi moriate Perché se voi morite Non potete più comprare la mia ultima opera Capito? Vedete? La mia ultima opera Vi può salvare Vi può salvare Carissimi amici Novak Ma lo sapete Che io sono uno dei più potenti opinionisti del web Lo sapete? Lo sapete che io opero sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion E Youtube E su Youtube io ho circa Circa 11 milioni di visualizzazioni Sono uno dei più potenti opinionisti del web E qua con il cuore in mano vi dico Ma fate come Giorgia Meloni e Matteo Salvini che si sono vaccinati Fate come loro Giorgia Meloni e Matteo Salvini Sono due potentissimi leader popolari E il popolo sovrano ci fa matto per Giorgia Meloni e Matteo Salvini Loro si sono fatti vaccinare E fatevi vaccinare pure voi Santa Madonna Va bene? A tutti voi cari amici Tanti cari saluti Dalla stipe del serpente Che è stata scritta da Serafino Massoni Il cuore Serafino Massoni È uno dei più potenti opinionisti del web Ok 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 Ok